orca troia yo youtube ma mi sa che è sotto 100 euro non lo so però vediamo quella che parte vediamo quella che parte oh yo youtube grazie mille thank you so much io nel dubbio l'ho messa anche l'inglese franchi svizzeri vabbè allora l'italiano sei svizzero dai perchè so che comunque la svizzera no non so nucleare che puttana grazie mille non me l'aspettavo in particolare la mattina orca zoccola che botta ah non sono 200 euro ragazzi no 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 non sono 200 euro si 100 euro penso siano 100 euro grazie mille comunque cioè nel senso grazie 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 a che